salve a tutti ripartiamo da dove c'eravamo lasciati con crash bandico 4 it it's about time scusate la pronuncia allora qui è il secondo episodio allora vediamo un po distruggiamo queste ok contengono i vumpa bene adesso devo andare da sta parte vai crash distruggi allora qui dobbiamo saltare immagino ok ce l'abbiamo fatta easy checkpoint quindi ripartiamo da qua andiamo giù oppa c'è un nemico lì ok vai distruggiamo le casse quindi allora l più cerchio pesciolare bene per un pelo raga qui dobbiamo saltare dall'altra parte vai crash vai bene checkpoint ok ok tendiamo il momento giusto vai ok finora easy diciamo dai facile qui